bentornati infettini e infettine nuovo tutorial sulla sopravvivenza abbiamo affrontato tante tematiche la pesca il cibo ma una cosa importante è anche la comunicazione tra i vari avamposti no allora faremo già vi dico almeno due tre video sulle comunicazioni perché visto che ci sono i vaganti bisogna un attimino capire in che situazione sei questo è il primo video sulla comunicazione vediamo se funziona ma ne hai birra fresca ah birra fresca ne hai zio domini ah ecco allora tienila in fresco quando finisce l'epidemia che vengo a bermene un paio ciao questo è per esempio un esempio di comunicazione tra gli avamposti vi saluto state in casa attenti i vaganti che sono sempre in aumento e al prossimo tutorial